Sembra essere di natura dolosa l'incendio che la scorsa notte ha distrutto una struttura balneare nella zona di Falconara, nel territorio del comune di Butere, in una delle spiagge dell'area tra Alicata e Gela, uno dei luoghi più caratteristici dell'intera provincia nissena. Erano passate da poco le due quando sono state avvistate le fiamme e subito sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare tutta la notte per estinguere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Sull'episodio stanno adesso indagando i carabinieri per cercare di risalire all'identità dell'autore o degli autori del gesto e dell'eventuale movente.